Fisco, giustizia, premierato e autonomia differenziata, quattro riforme per cambiare la nazione. Ed è proprio quest'ultimo il messaggio lanciato nella campagna informativa promossa da Fratelli d'Italia. Gli esponenti locali e regionali del partito del Premier Meloni hanno incontrato i cittadini nel centro storico di Sernia, in piazza Celestino V, un infopoint per illustrare le novità da un punto di vista legislativo varate dall'attuale governo nazionale. Novità, che ha spiegato la deputata molisana Elisabetta Lancellotta, avranno delle ricadute positive sia a livello politico ma soprattutto nella quotidianità degli italiani. Con il governo Meloni stiamo cambiando l'Italia e questo è testimoniato da dei dati concreti e tangibili del sistema Italia. Questo lo testimoniano dei dati, anche e soprattutto nel sud, vediamo che il PIL è cresciuto dell'1%, sono stati stanziati con l'ultimo PNRR 11 miliardi di euro. L'occupazione è in crescita, per quanto concerne una riforma del fisco è stata fatta questa riforma che si attendeva da tantissimi anni. Il cittadino è stato messo al centro proprio per far sì che ci fosse un fisco equo. La giustizia, la separazione delle carriere è fondamentale per avere una giustizia più equa e per far sì che ci fosse la terzietà anche del giudice. I tanti cittadini che si sono avvicinati al banchetto hanno chiesto spiegazioni sulla tanto discussa autonomia differenziata. Nessuna conseguenza negativa per le regioni del sud, hanno precisato da Fratelli d'Italia. Tutti i servizi saranno garantiti. Il provvedimento deve essere inquadrato come un'occasione di crescita anche per quei territori che ora sono in difficoltà. Noi abbiamo fatto sì che questa riforma potesse essere in qualche modo attuata. Abbiamo dato la possibilità alle regioni, perché le regioni hanno la possibilità di aderire all'autonomia differenziata. Una cosa però noi l'abbiamo fatta, noi di Fratelli d'Italia abbiamo consentito che vengano garantiti i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni per ogni singola regione. Grazie a tutti.